Salve a tutti i maledetti, prima di cominciare a parlare di Bergoglio e di Benigni devo fare un annuncio chiunque abbia un locale che possa ospitare dal centinaio di persone in su ed è interessato ad un qualche spettacolino mio e del buon Karim può mandarmi una mail nella mail che vi lascerò in descrizione ma torniamo a noi con una notizia abbastanza curiosa Roberto Benigni, famoso ex 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 comico toscano, si è uscito con questa frase qualche giorno fa se non ero in occasione del lancio dell'enciclica di Bergoglio nostro libro il quale lui, Benigni, ha presieduto, ha fatto praticamente lui il lancio di questo libro Benigni che fa il lancio del libro ad un papa, vent'anni fa sarebbe stata una frase detta da uno psicopatico avanzato in ogni modo, se ne è uscito in occasione della pubblicizzazione con un, apro virgolette il papa è l'uomo più grande del mondo, può vendere la misericordia a etti, chiuse virgolette allora, no, Roberto, no io capisco che l'alternanza dei papi è sempre stata questa uno simil buono, uno simil cattivo, uno simil buono, uno simil cattivo, eccetera 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 poi vai in Africa a dire che mettere preservativo è peccato, sto figlio di puttana di un polacco e quando muore lo innalziamo anche a grande uomo, ma per chi? e mio caro Benigni, dire il Vaticano è lo stato più piccolo del mondo con l'uomo più grande del mondo non ti rende un poeta, ti rende schiavo, ok? ma su di te lo posso capire, da quando è scopato, è morto il piccolo diavolo ed è arrivato il grande sparatore di stronzate auliche da Berlinguer a Bergoglio, mortacci tua, solo a dirla una fase del genere mi è venuta l'orticaria alle palle Lercio, il famoso giornaletto satirico online, gli fa un titolo del genere addio a Roberto Benigni, stroncato da un male incurabile alla coerenza ma io non ne faccio un problema di coerenza la modifica del proprio pensiero, come ho sempre detto, è un'assicurazione per l'evoluzione ne faccio proprio un problema di te e per carità, siamo esseri fatti distinti e la comodità, inteso come istinto di conservazione è di certo il più potente, ci abbiamo costruito la società sopra ma tu, che hai un certo potere anche sui non cattolici, uscirtene così misericordia Papa Francesco, lo stesso papa che ha tuonato proprio ieri in vista di quella pagliacciata che è il Family Day non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio ed ogni altro tipo di unione ma poi sul Family Day ci torniamo a tempo debito parliamo della stessa persona, sì quello che invece di dire chiaramente ai suoi seguaci se trovate preti, pedofili, denunciateli alle autorità statali, Cristo Santo, non confessatevi che non serve a un cazzo ha creato un tribunale interno al Vaticano per giudicare i vescovi che hanno coperto gli abusi sui minori esiste una legge italiana, ho capito che non pagate un cazzo di tasse e siete abituati a fare quello che volete ma se qualcuno viene abusato in Italia e qualcuno copre l'abusatore entrambi devono essere denunciati alle autorità italiane e devono essere giudicati dallo Stato italiano mortacci vostra, misericordioso a quello che ha giustificato l'attentato di Charlie Hebdo dicendo se qualcuno mi offende la madre io gli do un pugno e tutti giù a ridere come delle pecore per una giustificazione di pancia e di fastidio per quella che è la frase più inquietantemente violenta degli ultimi almeno 40 anni ma siamo seri? robè sei serio? poi vabbè più avanti parlerò come ho detto anche del Family Day del marito della Mussolini e di quel bimbo mai troppo bullizzato di Adinolfi dove andate? bello a tutti e state iscrittamente bene il vostro di Klaib a tutti e state iscrittamente bene